Buongiorno. In questo video voglio presentare una tesi che voglio proporzare a voi. Come soltanto, preferisco studenti con un buon avviso. Credo importante un piccolo numero di esame, ma credo che alla fine le cose più importanti sono fare cose con la passione. Questa tesi è sull'internet industriale e, in particolare, su network value sensor. Abbiamo analizzato dispositivi OpenMot-B, che sono dispositivi come questo. Questo dispositivo fa uso di un protocollo che è chiamato 6-ish, che è basato su TSCH, che è il Time Slot Channel Looping. Le cose importanti di questo dispositivo, all'inizio, sono che possono avere una comunicazione più o meno deterministica sul canale wireless, ma con una consumazione molto bassa di potenza. In particolare, con due batterie AA, questo tipo di dispositivo può lavorare più o meno per due anni. Questi dispositivi sono open source, quindi abbiamo un codice completo di source. Per esempio di compilazione cross-compilazione, puoi downloadare il codice dal tuo PC allo cpu che è dentro questo mod. Infatti, credo alla situazione pandemia, non possiamo fare molti esperimenti di dispositivi reali, ma questa stasi è focalizzata sulla simulazione. Quindi l'idea è che abbiamo modellato il comportamento di questo dispositivo su un simulatore discreattivo. E useremo il simulatore per cercare di implementare la modificazione del protocollo in order to save more power and at the same time to try to have latency so the time to send a packet from a node to another node that are really bounded. So in the past, we make some measurement about related to this node. We use an oscilloscope in order to analyze the power consumption and we place this data about power consumption inside the simulator. The simulator is this one, so don't worry, is not so complex, is relatively small. As you can see, it is written using Python code, but also if you don't know Python is really not too much complex and in particular we make use of the Simpy library that is a library for this creative and simulator. So it's another Python project in which we have some file, not too much file written in Python and that is this one, is a simulator, so we have some configuration file, in particular for instance we have this file that configure the simulation, so as you can see here we have the duration of the simulation, some parameter of the network, some other configuration file that can be either to be loaded in order to perform the simulation or to place a result, important we have a flow, so we simulate also the passage of packets from a node to another node, so in this case we have a node that is named 0 that generates a packet every 2 minutes, directed to a destination node that is node 2, this packet passed from node 0 to node 1 and from node 1 to node 2. And we have, as I said, other configuration, we will see next in this presentation that an important configuration is the TSH matrix that is the configuration of the network, of the network parameter, sorry. actually we can run the simulator, I try to run it in order to show you what is the possible output of this simulator, for instance we run the simulator in this configuration file, it's a configuration file in which the simulation is not too much longer, as you can see, the simulator provide some result related to power consumption, that as I said are derived from the real device, it also wrote some output file, for instance this one is one output file, in which, for each packet that is sent during the simulation, we have the latency so okay, this packet, send from node 0 to node 2, is not lost, it has this latency, as you can see, the latency are pretty big, in the order of 2, 3, 4 seconds, but is normal for such a kind of networks remember that in wireless network, usually there is this trick, when I send a frame, the receiver send back an acknowledged frame in order to notify me, the sender, that the frame was correctly received by the receiver if the acknowledged frame does not arrive, the sender repeats again the same frame so here, when we have thrice equal to 2, this means that the frame performs 2 hops and arrives without repetition when we have thrice equal to 3, the frame is transmitted 2 times in the segment between the first and the second node or in the third node and actually, we have also some past post analysis instruments, so if I pass this file, for instance, that is the output of the simulator to this script, with some parameter, we can obtain the results, that are this one, for instance, the average latency, the maximum latency, 18 seconds, so it's not really small, and so on and so on ok, the idea is that in this thesis, you will modify this simulator and you will try to implement new strategy in order to save power consumption so before I finish the presentation, I don't want to take to you too much time I want, if it works, oh my god, just one second I want to show you, to discuss about you, about how TSCH works, where TSCH at the end is the basis of 6th protocol so that we can emulate a transmission between node A, node B and node C so we have a network with 3 nodes, we name A, B, C and we have in this network 2 transmissions, a transmission from B to A and a transmission from A to C so in TSCH, time slot in channel looping, basically the time is divided into slots where each slot is usually of a dimension of 20 millisecond or 10 millisecond so in order to divide time into slot, this means that all the node must know such boundaries so it's interesting because this node use a synchronization protocol in order to share the same view of time because all the nodes must know that for instance at this time finish slot 3 and start slot 4, slot 5, 6, 7, 8 and so on this matrix repeats over time, so this means that after this division is finished restart another division that is exactly the same and the length of time and the length of this matrix usually if one is 100 slots so at the end 100 slots multiplied by 20 millisecond this matrix repeats one time every 2 seconds why I said that there is a matrix? because the column of this matrix is time, the row of this matrix is frequency so we have also a number of rows that usually is 16 rows 16 and in this matrix I can have a schedule so the idea is that in this cell I have the transmission between A and C and B and A, B and A, and the idea is interesting because this represents the frequency, the transmission channel, but it is named channel offset in the sense that this channel offset 3 is used in combination with this time in order to attain the actual transmission frequency so when the time is 4 the channel offset 3 is mapped for instance in the channel 5 when the time is 10, 9, 10, this channel offset is mapped into another physical channel for instance channel 7 this is interesting because it increases reliability because if I have an interference some other node that transmits on channel 5 this packet is 5, this packet is 5, this packet is 5, this packet is 5, but when this matrix repeats over time the next transmission is performed on a different channel and this increases the probability that the transmission succeeds which is 5, this process improves the frequency im52 this is multiple zaczyquate thing is related everything up here in the video the departure is 3, corner 3, corner 1 and 7, corner 3, corner 4, corner 5, corner, corner 5, corner hacia 0 the middle 1 and 8, corner 3, corner 3, corner 3, corner 4. Per esempio, qui, in questo tempo 6, ho la trasmissione tra B e A, quindi il nodo C può cambiare l'interfaccia, qui tutti i nodi sono cambiati, quindi qui, in questo caso, hai un ragazzo molto grande sull'accesso di potenza. E questo è una cosa del protocollo. Ora possiamo avere l'hypotesi che nodo A trasmittura a nodo C un pacchetto di più di 10 secondi, per esempio. Ma come ho detto, questa matrice ripete ogni 2 secondi, quindi se ho un pacchetto ogni 10 secondi, ma ho un'opportunità di trasmissione tra A e C ogni 2 secondi, questo significa che qui ho trasmissione il pacchetto, poi qui ho una cella che è inutile. Ho bisogno di ascoltare, nel senso che il nodo C espera la ricezione del pacchetto, ma questo pacchetto non arriva al nodo C. E' un problema perché se ho un pacchetto ogni 10 secondi, questo significa che ho un cello ogni 5 celli che sono usati per trasmissione, e le altre 4 celli, ogni 5 celli che non sono usati per trasmissione. Quindi l'idea di questa tesi è di cercare di evitare l'audito in queste altre celli, in questo caso 4 o 5 celli, e non perdere il potere in queste celli. Quindi questa è la idea basica. Quindi ci sono molti problemi, perché questa cella può essere usata per trasmissione, a volte il traffico è periodico, a volte non è periodico, quindi ci sono molti problemi, ma in ogni caso l'idea, abbiamo implementato questa parte sul nostro simulatore, l'idea è di implementare intelligenti o meno intelligenti in modo da non perdere l'acqua di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza. Quindi credo che se siete interessati, credo che puoi avere un'appointe con me, possiamo fare una call, cosa preferite, in ogni caso, se... 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 quindi se clicchi qui su PDF puoi downloadare il paper e in questo caso hai qualche informazione su come questo tipo di nodo TSH funziona e così via penso che ho finito su queste stasi ricordate che se decidi di fare con me questa stasi avremo un contatto diretto perché mi sono interessato per finirlo più importante voglio iniziare questa stasi non dopo il medio di marzo quindi se sei interessato provate a contattarti con me nelle prossime settimane ho anche altre stasi che sono interessanti credo e probabilmente le più interessanti per me a questo momento sono stasi non solo di comunicazione ma anche stasi relacionati con il aprendo di macchina che applicano sul contesto di comunicazione industriale e automazione industriale quindi alla fine le mie principali tese a questo momento sono relazioni a network di sensore e in particolare TSCH sia su simulatore e su reali dispositivi ma come ho detto non ora su reali dispositivi o tese sul aprendo di macchina applicata all'automazione industriale quindi grazie e scusate se ho scelto il tuo tempo quindi grazie 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 grazie